stiamo girando, appoggiate le mani nel suo posto l'abbiamo fatta, l'abbiamo assistito e adesso fai giù, fai giù, fai giù il bello della diretta abbiamo assistito proprio alla torsione in diretta l'abbiamo fatta, ce l'hanno fatta io vedendoli faticare non vi dico che ho sudato ma quasi perché insomma aspetta adesso stiamo vedendo io non vedo ma abbiamo le doppie immagini larghi e stretti e quindi siamo riusciti a vedere tutto è caduta un offerto davanti a noi ma la raccogliamo chiaramente e la diamo alla nostra santana che adesso si procederà a ristabilire a scendere a scendere di nuovo per poter poi fare la linea o adelaide oppure a Lorena un attimo salutiamo e ci congeliamo vorrei congelarmi con queste immagini adesso siamo stiamo scendendo il freno non stiamo scendendo il freno scusate stiamo scendendo il fercolo per stabilizzarlo adesso abbiamo sentito abbiamo sentito un termine bellissimo è stato quello non si riusciva a sganciare adesso è ripartito va bene noi restituiamo la linea si diamo la linea alla pubblicità ci vediamo tra poco grazie a tutti grazie a tutti